Articolo di Piero Giunta. Oggi la Virtus Ispica chiude il campionato di eccellenza al Megarello di Augusta contro il Carlentini. Partita valida per la quattordicesima giornata di campionato. Dunque ad Augusta, dai ragazzi che indosseranno la gloriosa maglia giallorossa guidati da Mr. Saromonaca e dal suo vice, Attilio Sirugo, ci si aspetta una prova d'orgoglio per chiudere dignitosamente il campionato. Una Virtus Ispica che ha lasciato le ultime speranze di giocare i play-off domenica scorsa, subendo la sconfitta interna al Pepino Moltisanti per 4-0 contro la C Sant'Antonio. La Virtus Ispica parteciperà quindi alla Pole B, a cui prenderanno parte le squadre classificate dalla nona all'ultima posizione. Dopodiché ci sarà qualche giorno ancora di riflessione per la dirigenza virtussina e si deve già ripensare a programmare il prossimo campionato. Ma c'è tempo per ritornare a scrivere articoli sulle vicende calcistiche virtussine. Carlentini Virtus Ispica con inizio alle ore 16.30 sarà arbitrato dal signor Gamba Curta, gli assistenti arbitrali saranno i signori Rizzo e Fazzi.